Un anno di pandemia, Croce Rossa italiana, Comitato di Spoltore sempre in prima linea per fronteggiare quella che è stata una vera e propria emergenza, Presidente. Sì, davvero, è un qualcosa che non ci aspettavamo, però dobbiamo davvero essere coraggiosi e soprattutto noi ringraziamo, io a mio nome personale, a nome di tutta la Croce Rossa, ringrazio i volontari che non si sono mai fermati, che hanno assistito la nostra popolazione H24, anche quando tutti fuggivano per paura di questa pandemia, perché comunque è un virus di cui ancora oggi non ne abbiamo conoscenza piena e non sappiamo da dove ci colpisce. Comunque i nostri volontari inarrestabili, e questo lo voglio dire, è molto fiero di ciò che sto dicendo, che loro sono stati davvero inarrestabili, non si sono mai fermati. Pensate che in un anno hanno fatto 4.000 trasporti sanitari, 2.000 servizi di assistenza alla popolazione del comune di Spoltore, hanno consegnato vitti, hanno consegnato farmaci, hanno consegnato materiali di prima necessità, hanno consegnato anche i panni da cambiare in ospedali ai pazienti ricoverati nei reparti Covid. Tutto questo è un qualcosa che ci inorgoglisce del nostro fare, del nostro essere e noi saremo sempre qui. Abbiamo fatto anche tante campagne di tamponi, oggi purtroppo le nostre ambulanze, qui ne vedete solo due, altre due, sono impegnate a fare i vaccini nei vari posti hub dislocati qui, uno a Santa Teresa e altri in altri posti della città. Abbiamo fatto i tamponi, continuiamo ad essere presenti e noi saremo sempre qui presenti e non lasceremo mai soli nessuno. Noi in tutto quest'anno comunque abbiamo sempre garantito il nostro servizio istituzionale con il 118, pur non avendo una convenzione fissa, noi abbiamo una convenzione a gettoni. Quando siamo disponibili apriamo i servizi e diamo la disponibilità. Nonostante tutto noi lo abbiamo sempre fatto e qui abbiamo uno dei volontari veramente emblematici, il nostro Domenico, che comunque viene tutte le mattine, da quando si è iscritto in Croce Rossa, ormai sono sei anni, viene tutte le mattine dalle 8 alle 14. Nonostante anche le reticenze da parte della famiglia, che lo hanno cercato di tenere a casa proprio per paura di questa pandemia, lui è sempre stato presente dalle 8 alle 14 tutti i giorni. E questo ha permesso alla nostra associazione di poter crescere e poter garantire i servizi e l'assistenza alla popolazione del nostro comune. Grazie